segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te effettivo naturalmente il cartello che abbiamo visto prima dipendente con uno stipendio 1500 euro tra spese bollette benzina beni alimentari perde 100 euro al mese rispetto a due anni fa maurizio landini che sta succedendo come stiamo messi siamo messi male siamo messi peggio di quello che era all'inizio della pandemia perché oltre alla pandemia è arrivata questa botta e lì basta vederlo 100 euro al mese vuol dire una mensilità in meno all'anno per intenderci vuol dire che i 1500 euro che uno prende al mese con queste inflazioni in un anno è come se avesse una mensilità in meno quindi vuol dire che non ce la fa che non arriva alla fine del mese che ha difficoltà quindi è il momento di aiutarlo è il momento di sostenerlo è il momento di trovare delle forme anche attraverso bonus attraverso quello che è necessario intervenendo anche sul fisco perché c'è da aumentare il suo netto in busta paga a partire dai pensionati provi a pensare i pensionati che non arrivano neanche a 1000 euro al mese provi a fare questo perché i prezzi sono gli stessi provi a fare 1500 euro ma le faccio un esempio ci sono 5 milioni di lavoratori che vivono con meno di 10 mila euro all'anno vuol dire che sono già poveri adesso lavorando si figuri cosa può succedere con questa situazione perché berzani il drago